le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 21 ottobre ariete giornata molto nervosa con la luna in posizione negativa per la vostra forma fisica e che vi espone a qualche spesa imprevista moderate le parole toro oggi sarete più ottimisti grazie alla luna che vi mette in contatto con tante persone piacevoli che vi fa sentire la vicinanza degli amici sinceri gemelli la situazione generale vi è favorevole e oggi questa luna protegge i vostri interessi economici e finanziari in amore c'è bisogno di prendere una decisione cancro sarete nervosi a causa della luna in posizione difficile siete sempre in attesa di una svolta che tarda ad arrivare calma sul lavoro leone giornata un po banale in cui sarete alle prese con i soliti impegni di lavoro che vi annoieranno più del solito ritroverete entusiasmo quando sarete liberi di pensare alle vostre passioni vergine giornata ottima come del resto tutto questo periodo che vi vede grandi protagonisti la luna è molto positiva per il lavoro l'amore e il massimo dell'imprevedibilità bilancia sul lavoro potreste incontrare qualche difficoltà anche a causa della vostra disorganizzazione siete distratti dall'amore che promette ancora molto scorpione oggi sarete molto attivi lo guaci pronti ad affascinare chi vi sta intorno non vi caricate di impegni eccessivi perché avete bisogno anche di relax sagittario ancora una giornata positiva grazie alla luna che parla ad affari di nuove discussioni ma anche d'amore mercurio favorisce ancora gli incontri capricorno ancora una giornata molto positiva con la luna che vi riempie di ottimismo di voglia di parlare di comunicare anche con il partner l'amore riserva colpi di scena acquario giornata interlocutoria la luna è molto nervosa e voi non sarete capaci di lasciar correre di fronte a cose che ritenete ingiusto sarebbe il caso di stringere i tempi in una trattativa pesci giornata positiva grazie alla bella luna utile soprattutto per organizzare un incontro d'affari l'amore lo avete messo un po da parte a causa di venere opposta e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus